Con le stadie ormai alle porte, il comune di Civitella del Tronto sta già pianificando le iniziative e le manifestazioni. Dopo il grande successo di pubblico degli anni passati, si punta a consolidare la posizione, confermandosi meta di grande attrattiva per i numerosi turisti presenti sulla costa. L'anno scorso è stato un anno di grande importanza per Civitella, con una presenza turistica veramente straordinaria. 53.000 persone hanno visitato la fortezza, 41.000 l'anno precedente, quindi c'è stato un aumento di oltre il 30% di presenze, un boom veramente eccezionale. Era l'anno del 150esimo e c'è stata, ripeto, questa straordinaria e forse ineguagliabile presenza. Quest'anno cercheremo di rimanere sullo stesso tema, cercheremo di portare avanti nuove iniziative. Stiamo pensando per esempio ad una mostra molto importante di arte contemporanea, con artisti non soltanto di fama nazionale ma anche internazionale, che dovrebbe partire a giugno. Quest'anno c'è anche la novità di un forte collegamento con Castelbasso, un'altra realtà molto importante del Terramano, che porterà sicuramente molto e qualcosa di positivo anche a Civitella. Non è però solo cultura e manifestazioni, può vantare infatti anche un'antica e gloriosa tradizione in campo enogastronomico. Beh, Civitella ha dei prodotti enogastronomici di assoluta qualità. Deve cercare di valorizzarli ancora di più, si sta lavorando in questo senso. Vi sono realtà all'interno di questo comune di assoluto prestigio e di assoluto rilievo che già stanno portando avanti questa enogastronomia. Noi pensiamo quest'estate anche di offrire ai turisti un percorso enogastronomico di qualità che possa valorizzare le bellezze architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche, ma anche per far apprezzare i nostri prodotti che sono rinomati non soltanto nel Terramano, ma anche nell'intero Abruzzo.